Verranno sentiti i carabinieri del RIS che hanno effettuato gli esami balistici eseguiti nel corso delle indagini per l'omicidio di Antonio Cianfrone, il 57enne, ucciso a colpi di pistola il 3 giugno dello scorso anno, mentre faceva jogging lungo la pista ciclabile di Pagliare. Questa mattina, davanti ai giudici della Corte d'Assise di Macerata, dove è ripreso il processo a carico dei coniugi Francesca Angiulli e Giuseppe Spagnolo, accusati dell'omicidio dell'ex vicecomandante della caserma dei carabinieri di Monsampolo, sono stati ascoltati i testimoni della difesa. Tra questi è anche il perito balistico Terenzio Dicenso, che ha sollevato dei dubbi sulla quantità di particelle di polvere da sparo rinvenuta dagli investigatori sulle manopole della motocicletta, ipotizzando che potessero essere frutto di una contaminazione ambientale anziché residui degli spari. Si sono emersi dei dubbi, credo, a seguito dell'esame del nostro consulente tecnico, il quale ha rappresentato degli aspetti tecnici che non hanno stati affrontati. Vediamo la decisione della Corte d'Assise sulle richieste istruttorie che abbiamo fatto a seguito di questo intervento. La prossima udienza, proprio per questo il Presidente ha convocato i due rappresentanti del RIS, i due tecnici del RIS, comunque sono due del laboratorio chimico del RIS, proprio per questi aspetti che sono emersi e ci sarebbero delle contraddizioni, delle questioni da valutare tecnicamente che dobbiamo affrontare. È stato sentito anche un altro consulente della difesa, l'ingegner Paolo Morganti, che ha eseguito una perizia per accertare le vie di accesso ed eventualmente di fuga nella zona della pista ciclabile. Sono degli altri accessi, esattamente il numero di sette mi pare, accessi che conducono direttamente sia sul credo del fiume sia sulla parte relativa alla prospicienza della sede della superstrada. Viottoli stretti che potevano benissimo essere utilizzati da parte di coloro i quali avrebbero commesso l'evento miciliario secondo come erano rappresentati i nostri assistiti, ma ancora di più, ed è molto importante, hanno utilizzato una di queste strade anche perché testimoni hanno detto di non aver visto altre motociclette in quel luogo per correre. La Corte d'Assise, dopo la Camera di Consiglio, si è riservata la decisione sull'istanza di affidamento di una nuova perizia richiesta dai difensori degli imputati per la valutazione dei risultati balistici e, nel frattempo, ha convocato i due esperti del RIS per la prossima udienza che è stata fissata per il 17 novembre prossimo. In avvio di udienza è stata comunicata la volontà di Francesca Angiulli di revocare il mandato al difensore Alessandro Angelozzi e affidarlo all'avvocato Gianfranco Di Marcello del Foro di Teramo.